Salve a tutti, oggi commentiamo il file 1065 di Detective Conan, il mio primissimo commento, in attesa poi dopo che esca la traduzione completa in italiano. Ma prima di cominciare vi invito a iscrivervi al canale dell'Iron Gaming, se vi interessa Yu-Gi-Oh! vi interessano i contenuti del gioco di carte, vi lascio il link in descrizione. E poi volevo ritornare brevemente sulla polemica che è sorta dopo il mio video di giovedì, anzi di venerdì, a seguito dell'eliminazione di X-Factor di melancolia. Ah, se indosso la mascherina lo faccio perché ho dei brutti tagli qua e non voglio che mi sono procurato facendomi la barba, quindi è meglio se indosso la mascherina di modo che non li vediate. Comunque, appunto la polemica che c'è stata dopo per un mio video, mi sono arrivate offese, insulti, tu non capisci niente. Beh, queste cose mi scivolano via, nel senso che per me mi possono dire che sono un coglione, che non capisco un cazzo, che sono un figlio di puttana. Va benissimo, io ho libertà, io accetto tutto, non faccio causa a nessuno. La cosa che mi dispiace, che chiaramente, ma neanche dispiace a me, la cosa che deve dispiacere a coloro che si sono rivolte a me con questi modi è il fatto che, come al solito, questa gente qua non ha capito un cazzo di quello che voleva dire il video. Perché io non intendevo affatto dire che i melancolia non fossero bravi, non l'ho mai detta questa cosa. Non ho mai detto che l'illuminazione dei melancolia di X Factor fosse meritata oppure no, ho detto che è un argomento dove si poteva discutere, ma in assoluto non ho mai detto che i melancolia non fossero bravi. Ho detto semplicemente che la rabbia dei melancolia che hanno appunto manifestato dopo X Factor, dopo la puntata dell'Hout Factor, è stata una rabbia sbagliata, che doveva essere rivolta verso, se loro pensavano di dover andare avanti, verso il programma in generale, sul sistema di conteggio forse dei voti, che è sbagliato, sul fatto che forse i voti non sono veritieri, eccetera, eccetera. Non certamente contro un giudice, Manuelito appunto, che non ha contribuito minimamente a loro eliminazione. Questo è quello che voleva dire il video, ma questa gente qua chiaramente non l'ha capito, un po' perché sicuramente la maggior parte delle persone si sono fermate a leggere il titolo senza neanche sentire quello che volevo dire. E dall'altra parte le persone, probabilmente perché mancano, diciamo, di una caratteristica molto importante, di un'abilità che andrebbe sviluppata, anzi si sviluppa fin dalle scuole medie, quando si fa comprensione del testo, cioè saper leggere un testo e interpretarlo. Ecco, è la solita, praticamente la solita cosa che succede con un video, cioè bisogna sentire quello che una persona dice e poi dopo in base a quello interpretare tutto quello che si vuole. E questa gente evidentemente qua manca proprio di fetta di questa abilità, probabilmente dovrebbe tornare indietro alle scuole medie e rifare un po' di comprensione del testo, evidentemente. Comunque non me ne frega niente, mi ero sentito un dovere di fare questo sfogo e quando mi tornerà a mente di farne un altro, rifarò un altro sfogo. Nel frattempo possono offendermi tranquillamente, possono dirmi tutto quello che vogliono, ripeto, possono dirmi che sono un coglione, che non capisco un cazzo, che mi devo vergognare io, eccetera. Me ne faccio proprio scivolare addosso e non me ne frega niente. Ok, veniamo appunto al dunque, parliamo del file 1065. Allora mi sto aiutando con qualche immagine che ho recuperato qua davanti per avere un'idea ben chiara su quello che voglio dire. Allora, fondamentalmente ci sono diversi punti fondamentali. Avevamo visto alla fine del file 1064 che Kamel si era nascosto e aveva insieme ad Akaia, avevano cercato di elaborare un piano, soprattutto Akaia l'aveva proposto, per mimetizzarsi con la vegetazione. E si nasconde praticamente in una specie di capanna e sta osservandola all'organizzazione Kamel. Alla fine Chianti e Vodka lo trovano e li cominciano a sparare, però Kamel si riesce a rinascondersi nuovamente sotto delle foglie, sempre in base a, grazie a questo, al metodo di Akaia, di mimetizzazione, eccetera. Poi succede che però sul suggerimento di Room, e questo verrà, sarà spiegato poi dopo, l'isola prende fuoco, cioè l'organizzazione improvvisamente mentre Kamel è al telefono, che sta parlando con Akaia, insomma al telefono, alla ricettrasmittente, sente di avere caldo e Conan si accorge che l'isola in realtà sta prendendo fuoco, quindi il caldo è dovuto al fuoco crescente. E appunto quindi Kamel cerca di scappare via, in realtà appunto il fatto che l'isola prenda fuoco è tutto uno stratagema che è stato creato da Room per far uscire Kamel allo scoperto, di modo che l'organizzazione appunto lo scopra. Akaia cerca di allontanare da Kamel l'organizzazione provando a cecchinare, ma in realtà succede che Chianti colpisce appunto Kamel con un colpo al petto che sembrerebbe essere letale. Quindi probabilmente, forse, Kamel ci lascia, purtroppo. E questa assunzione è fatta in base, non sappiamone con esattezza se Kamel muore oppure no, ma questa assunzione si riferisce al fatto che, da come si vede nell'immagine, il proiettile va a perforare il lato destro del petto. E soprattutto nell'ultima immagine, che è molto cruenta, si vede del sangue che esce dalla bocca di Kamel e la parte destra è strettamente associata ai polmoni e, in base a conoscenze mediche, praticamente se il sangue fuoriesce dalla bocca vuol dire che c'è stato un danno considerevole all'area polmonare del sistema respiratorio. Quindi è molto probabile che il colpo sia letale, però le sorprese sono dietro l'angolo. Quindi aspettiamoci di tutto. E la cosa molto importante è che bisogna segnarci questo numero qua, 1066, perché probabilmente, in base a quello che sappiamo, nel file 1066 dovrebbe essere, forse, quello risolutivo. Ci dovrebbe essere la soluzione. Attenzione, si spera chiaramente che ci venga rivelata l'identità di Rum. Però su questo non abbiamo affatto certezza, anche perché non è durata... Pensavo io stesso che potesse durare molto di più, ma in realtà non è poi durata così tanto. E sono stati molti più i casi che duravano, come per esempio, ne abbiamo citati un paio, Sconto tra Rosso e Nero, Misterio in una notte in una piena, sono casi che sono durati molto, ma molto di più. E niente. E quindi... Bisogna vedere poi dopo se questo file 1066, poi dopo ci sarà... La risoluzione verrà rivelata l'identità poi dopo di Rum. Quindi comunque segniamoci questo file qua. Vediamo se sarà finalmente il numero buono, il 1066. Una cosa molto interessante è che appunto si sta configurando questa sorta di dualismo, cioè da una parte Conan e Akai che collaborano, cercano di aiutare Kamali, dall'altra Jin e Rum che provano chiaramente a ostacolarlo. E questo è un dualismo che a me piace tantissimo, un dualismo con probabilmente le quattro personalità più intelligenti forse di tutto Detective Conan, escludendo Kudo, Yusaku Kudo, che comunque è dalla parte di Akai. E quindi questa sarebbe una cosa che a me personalmente piace molto e affascina molto. Quindi chissà se vedremo... Scopriremo veramente chi è che sta con Jin e chi è che è dalla sua parte. Poi un'altra cosa importante è che mentre Kamali sta spiando, Vodka comincia a parlare di Rum e dice che in realtà le descrizioni che sono state fatte, quindi il fatto che sia una volta un uomo effemminato, che un'altra volta sia stato un uomo molto grosso oppure un vecchio, sono in realtà delle descrizioni che sono state create da Rum stesso per confondere le altre persone circa la sua vera identità. L'unica cosa che è davvero certa di Rum è l'occhio artificiale. E questa è l'unica cosa infatti che ha comune tra i sospetti di Rum. Ma di questa cosa qua ve ne parlai già anche in passato. E vi dissi, molti mi dicevano per esempio, anche nelle proiezioni di un domande risposte, mi dicevano, Marco ma come mai secondo te Amuro per esempio non parla a Rum, non parla a Conan di Rum? Come mai Ai non parla a Conan di Rum? E la risposta che vi avevo dato era fondamentalmente questa, che si sta rivelando corretta in base appunto ai fatti. che di Rum di fatto tutti sanno pochissimo. Cioè Rum è il numero due dell'organizzazione ma è una personalità a cui in pochi riescono ad avvicinarsi, proprio perché è così importante. Vodka dice che l'unico tra di loro che sa veramente chi è Rum, sa in questo momento dove si trova e chi è, è Jin, che è sicuramente il membro dell'organizzazione, escludendo Rum che abbiamo conosciuto adesso, più importante. Quindi lui è l'unico che lo sa. Vodka, Chianti, Velmut, non lo sanno. Perché non sono, non hanno un rango abbastanza alto. E questo mi fa in qualche modo... Poi tra l'altro una cosa importante che dice che adesso Rum ha adottato un nome silly, si dice nella traduzione inglese, cioè sciocco. Io però adesso non mi posso aiutare perché non so il giapponese, quindi qualcuno magari esperto di giapponese potrebbe anagrammare tutti i nomi dei sospetti, Kuroda, Rumi Wakasa, Kaneori Wakite, e cercare di capire quale tra i tre probabilmente è più sciocco e questo potrebbe essere un indizio per scoprire la sua vera identità. Comunque sia questo... Poi magari mi sbaglio. Questo comunque mi fa in qualche modo supporre che... proprio alla luce di ciò che è stato detto che Rum non possa essere Kuroda. Non può essere Kuroda secondo me proprio per il fatto che è una persona così importante che è stato a contatto solo con Jin e non avrebbe mai potuto chiamare Barbon al telefono. Non avrebbe mai potuto avere una conversazione telefonica Barbon con un membro così importante quando l'unico tra quelli che ci si è avvicinato è Jin. Quindi mi dà l'idea che Kuroda non possa esserlo. Poi magari, ripeto, mi sbaglio e staremo a vedere. Però quello che ho dedotto io, quello che sospetto in base a ciò che è stato detto in questo file è proprio questo. Cioè Rum, proprio per la sua importanza, poteva solo messaggiare con Barbon e quindi non può essere Kuroda, a mio avviso. Ok. Fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo con un prossimo video prossimamente sul parlare appunto in maniera forse un po' più dettagliata di questo file quando uscirà la traduzione in italiano. Mi raccomando commentate sempre per domanda e risposta e vi propongo anche un'altra cosa vi lancio un'idea, vediamo se vi può interessare. Se può interessarvi l'idea di tirare per esempio un numero da 1 a 40 ve lo propongo io, sì, da 1 a 40 e io genererò praticamente farò praticamente un'estrazione random tra i numeri che che sceglierete voi qua sotto nei commenti e il numero che sarà designato sarà il numero del file di Detective Conan che io commenterò insieme a voi brevemente cioè per esempio file non so, 15 apro il manga sul capitolo 15 non file, scusate, capitolo capitolo 15 e commentiamo insieme brevemente tutti i file cos'è successo che caso è se mi è piaciuto oppure no fatemi sapere cosa ne pensate alla prossima buona giornata, ciao grazie a tutti